Monvania S.P.A. è una società che opera nel settore tessile nell'ambito della neobilitazione di filati artificiali e sintetici, filamento continuo, per i tessuti di abbigliamento e arredamento. Il totale della produzione sono 3.000 tonnellate anno di filato ritorto che vengono distribuite in tutta Europa con il marchio commerciale Filcomo e fanno di Monvania un leader europeo nel proprio settore. Nel nostro settore l'energia elettrica ha un peso rilevante, è la seconda voce di costo dopo la mano d'opera e rappresenta il 25% del totale dei costi di produzione. Nel nostro specifico di Monvania la spesa energetica annua arriva ad essere di un milione e mezzo di euro. In passato abbiamo lavorato sulla velocità delle lavorazioni, sullo componentistico delle macchine e sull'installazione di inverter. E da ultimo ci siamo dedicati allo studio sui motori di nuova generazione a basso consumo energetico. Così un anno e mezzo fa ci siamo rivolti ad ABB per approfondire e studiare l'argomento e abbiamo insieme compiuto in stabilimento una campagna di misurazione e alla fine un vero e proprio audit energetico dal quale abbiamo potuto certificare che passando da motori IE1 ai motori IE3 di nuova generazione potevamo avere un risparmio di almeno il 5% sul consumo di energia. Alla fine dunque ci siamo decisi all'acquisto di 227 motori di nuova generazione ad alto risparmio energetico che riteniamo di riuscire ad ammortizzare nell'arco di due anni. Abbiamo scelto ABB perché marchio primario è leader mondiale del proprio settore ma per di più per una grande competenza, professionalità e anche disponibilità dimostrata durante tutto questo anno e mezzo di collaborazione e questo audit energetico che ci ha portato a individuare il prodotto esatto e specifico per le nostre esigenze.